musica eccoci qui ragazzi tornati su Outlast e chiaramente se la security non era chiusa e mi scusa gli abbiamo dato una possibilità no ti sto invitando no 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 state tranquilli state tranquilli state tranquilli signori tranquilli 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 no raga però eh si sono Outlast no raga no 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 dimmi lì no dimmi che non è vero ah può essere un problema può essere un problema può essere un po' no mi serve la chiave elettronica no per favore no non mi fai andare per questo colidoio ti prego cioè no ti prego no 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 è anche tardi rega no 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 è anche tardi devi stare tranquillo devi stare tranquillo eccola eccola qua è proprio questa prendila rega io in questi casi si scappa cioè non dobbiamo fare altro che scappare basta basta apri mamma te giuro autos fa paura in certi momenti apriamo basta ancora più buio cioè non bastava quello di prima no un altro esce passando per le doci io can aiuto regà ho piato un colpo no no ho piato un colpo ne ho due dietro ho preso un colpo ho preso un colpo regà non ci credo ciao 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 ci vediamo l'anno prossimo io veramente guarda vi voglio bene ma io non me ne vado ciao 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 è stato bello conoscervi guarda madonna ecco va bene altro colidoi più bello questo proprio dobbiamo fare the best colidoi la serie allora 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 Marco ti spiego allora tu devi venire qua adesso aiutarmi perfetto hai capito tutto dimmi di si no ho capito il punto in cui sono no cazzo corri 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 è un consiglio no ti prego no no vi prego non mi ricordo dove devo andare non mi ricordo dove devo andare lo vedete raga è lì è proprio lì corri 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 no no sono caduto dove sono finito dove sono finito no raga no raga che merda cos'è che schifo no veramente questa scena questo vuoto vabbè io sto notando un dogmo se è sicuro dove sono dove sono bro cioè io mi sto no 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 c'è c'è mi sembra dal cielo just do it là perché donna paura aiuto ma perché vieni proprio qui vabbè è un classico degli horror cioè io sono qui tu vieni qui cioè non male vedi il problema adesso è da che parte è andato non ho più batterie vabbè ce l'abbiamo perso io me ne vado io me ne vado regalo scampato regalo scampato no porcellino un cazzo porcellino un cazzo quello è la tiglia non io dove devo andare dove devo andare dove devo andare di qui di qui no 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 dove devo andare tu sei una merda tu sei una merda l'ho sempre detto è qui che succede è qui che succede è qui che volete voi no 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 tu stai tranquillo io non voglio farvi niente no cioè ti giuro non sto cagando in mano non sto scherzando hai finito di seguirmi idiota cos'è questo rumore cosa state facendo no ma io dico qui nel mio gioco questo momento questo momento ma questo qua mi continua a seguire non me ne frega niente se nel 1938 è morta tua mamma ma chi ce ne frega è morta sua mamma nel 1938 ma che cosa me ne frega ma ci sono questi qua che sbattono con le loro cose hai finito no solo un momento devo solo forse vedo no che cazzo però raga non so dove devo andare a porco tu tu sei pazzo lui è pazzo basta sbattere su quelle cazzo di cose no non è tu prima c'è ancora non me ne frega oh c'è sto qua che c'è questo qua che continua a dire mi prove arrangati che ti ho dovuto eh ma perché sono legati perché sai cos'è Outlast no? sei in un manicomio quindi sono legati però è un manicomio abbandonato nel tempo forse era qui no ok te lo spiego dopo andate trami finito tanto non durerà molto fra 5 minuti mi viene un infarto quindi tranquillo durerà poco tua mamma cagna non mi ricordano questo pezzo non so chi tu sia ma ti ringrazio tantissimo ecco allora tu adesso devi imparare l'educazione perché capisco che sei rinchiuso qua da almeno 5 anni però sai l'educazione non si dimentica mai dico io ma adesso non mi è stato inseguendo nessuno sono in mezzo ai pazzi per adesso eh adesso dopo te lo spiego tanto non ci metto molto finire di registrare era qua no cazzo tutte queste porte di merda qua qua ecco regà sono ehm ok era qua no è schifo ok forse era qua no non era qua era qua no non era qua allora decidi ah la scala io regalo mi ricordo se questo pezzo esce qualcuno perché io questo gioco l'ho già giocato ma per me è sempre nuovo allora lì c'è una batteria e la cosa non mi non mi disturba perché le batterie servono perché se finisce la telecamera siamo al buio sì però questi questi qua fanno cacciare fanno troppo a cacciare tua madre Pio a chi vi ho l'assi no basta cane oddio santo no vabbè mo piglio un colpo no per fortuna ok si piglio un colpo una volta il dottore mi ha detto che se facevi vedere la nostra tecnologia a un uomo delle caverne quello pensava che era magia che se facevi vedere la magia all'uomo moderno quello pensava che era tecnologia molto interessante non mi interessa ecco di qua noi dobbiamo andare noi dobbiamo seguire il sangue dimmi che obiettivo di merda no 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 sape2 calls 2 no ma tanti ma no già mangiato no 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 ragazzo tardi e io mi sto pegando un colpo poi adesso siamo anche nel nel nocciolo del manicomio ed è pieno di merita io vi ringrazio per la visione lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale non ci becchiamo al prossimo Outlast cioè no, al prossimo video che cazzo dico, ciao